Le nostre coste non sono l'habitat ideale per squali, che in genere sono associati con la California, Australia e le acque a largo del Sudafrica. Ma da un po' di tempo sembrano aver perso la strada di casa e più volte sono stati avvistati nelle coste di tutta la Sicilia, dallo stretto di Messina a Porto Empedocle fino ad arrivare nelle nostre zone. Solo negli ultimi periodi ci sono stati diverse segnalazioni, come ad esempio circa un mese fa nell'Agrigentino, dove un pescatore a circa 10 miglia dalla costa di Porto Empedocle ha avvistato uno squallo bianco. L'ultimo avvistamento nei giorni scorse è di rosso degli scogli di contrada a Tremoli sul lungomare di Avola. Uno squallo di due metri e mezzo è stato trovato morto. Ad avvisare la capitaneria di Porto sono stati alcuni bagnanti attirati dal fortodore manato dalla carcarsa. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto di Avola che, insieme al veterinario, hanno accertato come lo squallo fosse in un avanzato stato di decomposizione e probabilmente morto da una ventina di giorni. Per motivi igienico-sanitari, la carcarsa dell'animale è stata rimossa dagli operai dell'ufficio ambiente del comune di Avola, ancora da decifrare le cause che hanno portato a decesso dell'animale, che presenta un grosso taglio all'altezza del fianco sinistro.